Ciao a tutti, eseguiamo oggi un trisette di addominali per vedere di appiattire un pochino la nostra pancia e magari contenere un pochino le maniglie dell'amore. Quindi sarà una sequenza di tre esercizi fondamentali per gli addominali, li eseguiremo a circuito e con una tempistica che andrà ripetuta, più o meno faremo 20 secondi ad esercizio che verrà poi ripetuto all'interno della stessa sequenza, quindi per tre volte circa. Per i principianti consiglio di magari partire con delle tempistiche piuttosto brevi tipo 15-20 secondi, ripetute 15-20 secondi anche per le altre sequenze, perché è un pochino più esperto, comunque conosce il proprio corpo è un pochino più allenato, si può andare a salire, quindi partire con la prima sequenza 20 secondi, la seconda sequenza ad esempio 40, la terza sequenza 60 secondi per arrivare al minuto. Ok? Andiamo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!